Buongiorno ragazzi, buongiorno, eccoci qua, parliamo all'indomani della partita Fiorentina-Juventus Allora, facciamo una premessa, la Fiorentina quando gioca contro la Juve vede il diavolo è come quando un toro vede il rosso Dice, ma stai cercando scuse? No, scuse non la sto cercando, voglio fare una premessa Quindi, quando la Juve va a Firenze, prende praticamente una squadra, diciamo, ossica Una squadra che è come se stesse combattendo una guerra, in questo caso è una guerra sportiva Quindi, la partita a Firenze non è mai facile Chiusa premessa, perché non è una scusa Ora analizziamo la partita Analizziamo la partita In questa partita, tutti i miei colleghi youtuber hanno detto che ci sono state delle cose negative Su questo io sono d'accordo Però ci sono anche due cose positive, ve le dico alla fine Partiamo dalle cose negative Delle cose negative, la cosa che non mi è piaciuta è stata sicuramente No, il gioco, vabbè, perché il gioco non esiste L'approccio, l'approccio alla partita, la mentalità Va bene che la Fiorentina è forte Va bene che a Firenze loro, quando vedono noi, ci odiano Perché ci odiano i Fiorentini A noi Juventini, d'accordo Però, io posso capire Puoi subire le azioni, perché sei fuori casa Puoi subire il loro gioco Puoi subire tutto quello che vuoi Ma minchia Un cazzo di tiro in porta, porca buttana Un tiro in porta in tutte le 45 minuti del secondo tempo Fallo, almeno un tiro in porta Anche se poi la Fiorentina gioca dentro casa Ha il favore del pubblico Anche se la Fiorentina poi ti attacca Anche se la Fiorentina ti aggredisce Anche se sei subendo il loro gioco Ma almeno un tiro in porta fallo Perché sennò a Parigi ci scassano il culo Ci fanno almeno 4 gol Perché se la Juventus gioca come ha giocato nel secondo tempo di Firenze Ce ne fa 5 Il Paris Saint-Germain Ce ne fa 5 Perché là stiamo parlando che ci sono Mbappé Messi, Neymar e quant'altro Quindi non mi è piaciuto Non tanto Perché lo so che la partita di Firenze è difficile Non mi è piaciuto l'approccio La mentalità E questa mentalità chi la deve dare? La deve dare questo allenatore Che per me non è da Juventus Punto numero 2 Cosa non mi è piaciuto? Allegri, l'allenatore Dice ma perché? Perché praticamente Allora, Allegri, Allegri Io ho visto che ha levato Di Maria Al primo minuto del secondo tempo Cambio storico Io ho detto Sicuramente se lo sta conservando per il Paris Saint-Germain Poi ha tolto Cossici Poi ha tolto Quadrato Praticamente ha tolto tutte le possibilità Di poter fare il gioco Di poter fare Assis Per poter vincere questa partita Non ha fatto entrare per niente Vlauic E quindi lui ha giocato Ha giocato per il pareggio E facendo così Togliendo Cossici Togliendo Quadrato Non facendo giocare Vlauic Togliendo Di Maria al primo minuto del secondo tempo La divenza è morta Chi cazzo lo deve fare il gioco Se togli tutti questi giocatori Gli ha fatto entrare Miretti Bonucci E Desciglio Praticamente il re mi imbarca Si è difeso Ieri abbiamo avuto culo Ieri abbiamo avuto culo Perché Perin è stato grande Prima ha parato un rigore E non ve la prendete con Paredes Perché questa è regola del cazzo Quando la palla sbatte nel braccio Arrivo io La tiro nel braccio uno E del rigore È una regola del cazzo Quindi non ve la prendete con Paredes E Paredes Si era giocato bene Perché a chiunque può capitare Che gli tirano la palla addosso Ed è caccio di rigore Perché questa regola è una merda Deve essere cambiata Comunque Non usciamo fuori tema Tugliendo questi giocatori La Juventus è stata massacrata Quindi 45 minuti dell'assedio Grande Perin che ha parato Prima il rigore Perché Prima ha parato il rigore E poi ha parato un grandilo Di Ambarabà Come cazzo si chiama Perché con noi Anche Ambarabà Cicicocco Diventa forte contro la Juventus C'è da dire anche questo Anche Ambarabà Cicicocco Tre civette su Comò Diventano forti con noi E quindi Grande Perin Quindi la mentalità Non mi è piaciuta Ora passiamo invece Alle cose positive Cose positive Primo su tutto Milik Quindi la campagna qui Si ha fatto il suo effetto Ha fatto il suo effetto Perché Milik Già la seconda partita Che segna Ieri è stato determinante Se non fosse stato per lui Avremmo perso 1-0 Grazie a lui Ci portiamo a casa Questo pareggio Che vale oro Seconda posizione Positiva Che siamo usciti In questo campo Indenni Senza avere perso E questa è una cosa importante E io vi dico una cosa Se la Juventus Ha preso un pareggio Ieri a Firenze Con 4 a 100 Perché mancava Bonucci Che è entrato dopo Scesni in porta Pogba e Chiesa Se la Juventus è uscita 1-1 A Firenze Vuol dire che questa squadra Secondo me Se cambia mentalità Può lottare per lo scudetto Perché la qualità In questa squadra È tanta E anche le riserve Sono molto valide Sono molto valide E quindi Io Anche se abbiamo fatto schifo Sul punto di ammettere del gioco Vedo il bicchiere Mezzo pieno Quindi ieri Punto d'oro Punto d'oro Perché abbiamo pareggiato a Firenze È un punto d'oro Non mi lamento Me lo prende Me lo porta a casa Perché la Juventus Ha avuto anche un calendario difficile Prima la Roma di Mourinho Che era in forma E ha pareggiato Sempre con una squadra incompleta Noi E ora ha avuto Una trasferta micidiale Di Firenze Sempre con una squadra incompleta La Juventus ha pareggiato 1-1 E quindi Su punto me lo porta a casa Quindi Il punto per me Ieri la Juventus Sono contento Perché ha pareggiato Sono contento Perché Milik ha segnato di nuovo E Sono contento Perché ci teniamo Nelle zone alte Della classifica Però non sono contento Per la mentalità Allora Quest'anno i giocatori Come ho detto Nel video precedente Ce l'abbiamo Zero scuse È un fattore di mentalità Tu Devi giocarti Sta cazzo di partita Non devi far uscire Tutti i difensori Perché ieri Si è capito palesemente Che i difensori Noi abbiamo pensato Io ho guardato la partita Con mio fratello Abbiamo pensato Che hai tirato fuori Tutti i giocatori Perché te li volevi conservare Per Parigi Ma poi Quando hai fatto la dichiarazione Che hai detto che La partita di Parigi Non conta Conta quello contro il Benfica Là abbiamo capito Che le sostituzioni Non le hai fatte Per conservarteli Per la partita Contro il Paris Saint-Germain Ma le hai fatti Perché ti sei cacato addosso E volevi prenderti il pareggio Quindi Noi I giocatori ci sono Non ci sono scuse Il Milan è fortissimo Dobbiamo lottare Secondo me con il Milan Perché l'Inter Quest'anno Non è l'Inter Degli altri anni Però se vuoi battere il Milan Ti vuoi portare lo scudetto Deve cambiare la mentalità Va bene 1-1 con la Fiorentina Ma dobbiamo Cambiare la mentalità Mettetelo nella zucca Mettetelo nella zucca Poi lo sappiamo tutti Che contro il Paris Saint-Germain Perdiamo Ma intanto Le partite di campionato Non ti devi difendere Devi attaccare C'è la tutta E sempre forza Juve Grazie a tutti